E' comodo, eh? Mi piace. Ora mi manca. Ma beccato che non ci sia una possibilità. Ma che ne hanno una matrimoniale? Ehi, a coso? All'ulti? Ma la notizia di quei soldi? L'avevo fatta questa ricevuta, l'ho ricevuta, l'hai ricevuta? La tua signora? Ma te allarga la tua signora? Vabbè. Amore. Sa saluta grosso, ma? O meglio, amore. Brava amore.